Ecco un suggerimento per rendere più appetitoso il pranzo della domenica. Spiedini di carne e verdure con salsa al miele di sulla mielizia. Preparate gli spiedini alternando la carne con il peperone giallo, la zucchina e il peperone rosso. Preparate la salsa con il miele di sulla. Questo è un miele delicato e dal profumo gentile, ideale anche per realizzare salsi originali. Aggiungete il brandy, mescolate, unite sale e pepe e la buccia grattugiata di limone. Cuocete gli spiedini e salateli. Cospargeteli con la salsa al miele di sulla mielizia servita in tavola e sarà una vera delizia.